Volete vedere le zampe di pollo? Mi hanno dato pure due guanti di plastica così da poter mangiare senza sporcarmi le mani La zampa con le unghie Chi è che sta suonando il flauto? Stonatissima Sono appiccicosi, sembra di mangiare la zampa di maiale Un po' piccante Faccio vedere meglio Questa è la zampetta di pollo E' buono Manca una birretta A vederlo fa impressione Infatti sto guardando me stesso dalla videocamera